Questa è la Bautarga, anche quest'anno vede la partecipazione del GAL e delle aziende del territorio del GAL. Sicuramente è una di quelle iniziative su cui il paniere dei prodotti agroalimentari del SINIS che vengono promossi dal GAL trova la massima espressione. Con convinzione sosteniamo anche quest'anno questa iniziativa e vediamo che il numero degli aderenzi cresce e nel corso degli anni abbiamo avuto modo anche di constatare che sono nate delle opportunità commerciali. Da questo punto di vista, pertanto, quest'anno c'è un'evoluzione. Ci sarà un luogo dove tutti i prodotti di GAL verranno accumulati per la commercializzazione. Contemporaneamente sono sempre presenti anche gli stand dei singoli produttori per sia le degustazioni che le commercializzazioni. Quindi è un nuovo luogo dove si può dare un sostegno attivo all'eccellenza del SINIS affinché vengano sviluppate sempre più le loro commercializzazioni.